Vicino alla sponda romena del Danubio, all'altezza della città di Corabia, si è formata un'isola di sabbia che mostra come il secondo fiume più grande d'Europa, che serpeggia dalla foresta nera al Mar Nero, si stia ritirando. Attualmente il livello dell'acqua è di 6 centimetri al di sotto della norma. 2.900 m3 per seconda, molto sub media multianuale a luni e augusti di 4.600 m3 per seconda. Gli abitanti di Corabia affermano che i bassi fondali stanno comprometendo il trafico nautico. Apa è molto piccola e non si può uscire dal porto. In ogni anno quando sono crescute temperaturi, è proprio così è che il porto non si può usare, il porto turistico non si può usare. Embarcazioni circolano più in partea della mini-insule, non questa è l'insula di base, l'insula Bologna è più vicino e l'acolo è l'acqua un po' più grande e si può fare a greve. La Romania sta soffrendo una delle peggiori ondate di caldo della sua storia. In assenza di piogge, il livello del Danubio continuerà a scendere nei prossimi giorni.